La Sala 8 del Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari si trasforma in aula di udienza per il processo sul crack della Popolare di Bari, nel quale sono imputati gli ex amministratori Marco e Gianluca Iacobini, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti dell'Istituto di Credito Barese e di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Banca Italia e Consob. In sala inibito l'accesso alle telecamere, ma tutti con mascherine, dopo aver effettuato la misurazione della temperatura all'ingresso e la registrazione delle presenze. L'accesso ai banchi consentito a 55 avvocati, su sedie distanziate nel salone da oltre 200 posti, nel rispetto delle norme Covid, oltre al Collegio dei Giudici presieduto da Marco Guida e IPM Savina Toscani e Federico Perrone Capano. Nell'udienza odierna si prosegue con le eccezioni preliminari relative alla costituzione delle circa 3.000 parti civili, azionisti, associazioni in Regione Puglia, Comune di Bari e la ex gestione commissariale della stessa banca. Il processo, stando al calendario stabilito dal Tribunale e al contratto sottoscritto con l'ente Fiera, dovrebbe durare 60 udienze da celebrarsi entro un anno.